Come si è finita la finale dei secondi giochi europei? Ho avuto un po' di problemini un paio di tempo fa ma vedo che di testa adesso ci sono e il salto viene. Parallel sono salito, si vede sconcentrato e con poca mentalità e ho fatto dei piccoli errori anche nell'uscita e mi ha penalizzato molto. A Sbarra ho portato il mio nuovo esercizio, in qualifica l'ho fatto abbastanza bene, purtroppo in finale ho sbagliato lo Zulimin e ho sporcato molto l'uscita. Questa cosa mi dà un po' fastidio perché sentivo di poter fare una bella gara ma non è stato così. Sono andato al corpo libero, stanco mentalmente ma soprattutto fisicamente e ho cercato di tirar fuori tutto me stesso e portare a termine l'esercizio in qualsiasi modo. Diciamo che Nicolò oggi non ha fatto una delle sue prestazioni migliori, probabilmente bisognerà analizzare un po' la cosa se è stata dovuta per motivi di preparazione e di stanchezza. Però comunque è stata un'ottima esperienza perché Nicolò ha presentato degli ottimi contenuti sugli esercizi, abbiamo presentato punteggi di partenza molto alti. Il corpo libero è andato con un esercizio nuovo che parte da 5-9, Sbarra ha presentato anche là una nuova combinazione per cui abbiamo aumentato tutte le notte D. e adesso sarà da fare un attimo il punto e vedere cosa è utile a tenere e cosa è utile a limare. I contenuti di Nicolò sono molto buoni per cui sono fiducioso, con un po' di lavoro sono sicuro di colmare questo gap di preparazione. I contenuti di Nicolò sono molto buoni per cui è utile a tenere e cosa è utile a tenere e cosa è utile a tenere.